Ammetto, mi mancavano pure le analisi della partita di Cremonese-Juventus Io ho lavorato, c'è lavorato, cioè mi sono messo qui, ci ho messo tanto Perché a fare le analisi della partita ragazzi ci vuole veramente ore a farle Non tanto a capirla, a partire perché già tu la guardi però a trovare tutte le immagini A metterle nel modo più corretto possibile Mettere tutti i testi messi bene ragazzi Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci ho messo almeno un'oretta e mezza, due per fare questa analisi È stata un'analisi lunga da fare perché ci sono tante cose da dire A differenza magari di un'altra partita Ci arriviamo dopo Detto questo, analisi di Cremonese-Juventus Ammetto che alcune volte non ho evidenziato perché alcune volte mi sembrava abbastanza inutile Però siamo qui con l'analisi di Cremonese-Juventus Partita terminata sul punteggio di 0-1 per la formazione allenata da Massimiliano Allegri E dunque passiamo appunto all'analisi Grazie a Soccerment, a Sofascore e a Sony Ormai li vedete sempre in questo slide diciamo dove c'è anche tutto il match report Che potrete trovare appunto Cioè che basta che scrivete in privato a Soccerment su Instagram vi rispondono A me stavolta non so perché non mi hanno risposto Ma credo che ci avevano cose da fare Però sono riuscito a diciamo recuperare queste immagini da Luca Cantoselli Youtuber che stimo tanto Youtuber juventino che fa anche lui le analisi Quindi ho diciamo recuperato qualche screenshot diciamo sul cosa Forse uno perché gli altri li ho fatti tutti io Detto questo Tiri in porta, Cremonese e Juventus Zoomiamo un po' così si vede meglio Chiaramente la Juventus fa Diciamo non so tiri in porta ma sono Tiri, fa più tiri La Cremonese ne fa 13 La Juventus ne fa 19 In porta la Cremonese ne fa 3 Se ho visto bene Mentre la Juventus ne fa 8 Non è scritto qui Però c'è scritto anche su Vabbè i siti OneFootball Basta che andate un po' le statistiche anche su Google li trovate Ecco Poi Meglio la Juve nell'XG Ed è vero Perché l'XG della Cremonese È di 0,72 Mentre quella Juve è di 2,3 Cioè 2,03 Ma perché questo? Perché La Juventus ha creato di più Cioè la Juventus ha tirato tanto Contro la Cremonese E il problema quello è stato Intanto che Sono stati tutti i tiri Solitamente a fuori area A parte 2,3 Da dentro l'area Però la Juventus ha creato veramente tanto E vediamo anche il perché dopo Il possesso palla ragazzi È a favore della Juve Infatti si vede Possession 44,1% Della Cremonese 56% Della Juventus Ovvio che Gli XG è un qualcosa Di molto Ah no XG scusate È 0,66 Per la Cremonese È 1,47 Per la Juve E comunque È a favore della Juve ragazzi È a favore della Juve Come vi dicevo prima Ho letto male Mi sono svegliato Da 30 minuti Mi sono messo subito A fine Le ultime cose A registrare Ma Queste cose Non mi interessano Quindi 0,66 Per la Cremonese 1,47 Per la Juve Scusate Ho letto male Però la sostanza Cambia poco C'è la Juventus Ha comunque tirato tanto Infatti 8 tiri Nello specchio Da porta Non sono Un caso E E quindi La Juventus Ha creato di più Della Cremonese Però C'è un però Perché comunque La Cremonese Ha un XG Di 0,66 Che Se lo arrotondiamo Per eccesso È quasi Un gol Cioè la Cremonese Poteva fare un gol No I pallini Quelli un po' più Grandi Vuol dire che Hanno avuto Occasioni più pericolose Mentre i pallini più piccoli Sono le occasioni Meno pericolose Vedete La Juventus Una da dentro l'aria Un'altra Cioè la Juventus Di occasioni proprio Clamorose Qui un po' si vede Ne ha 3 La Cremonese Ne ha Ne ha Ne ha anche Ne ha anche E quindi Guardatevi un po' Di statistiche Ad esempio Vabbè Tipo Passa a cura Si A favore della Juventus Il long Passa Fuori Della Juve Insomma Tante cose Sono a favore Della Juve Come si vede Un po' Dalla grafica Però È stata Senz'altro Una partita Non molto positiva Dei ragazzi Allegri Poi Da questo grafico Scusate Tagliata la O La Juventus Nel secondo tempo È cresciuta Molto A livello Che sono creati Infatti Perché Quello verde E la Juventus Quello Blu E la Cremonese Azzurro Blu Perché la Cremonese Guardate Fa Pum 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 Poi si ferma Perché Parte con il gol Annuato di Valeri Poi si ferma E poi ricresce Nel secondo tempo Il palo di Dessers Mentre la Juventus Parte un po' Così Sale Sale Con i tiri su Le si ferma Sale Sale Con i tiri Di Miretti Sale Sale Ancora E poi nel secondo tempo Sale sempre di più Infatti trova il gol Con Alec Milik Su punizione Il modulo Un 3-5-1-1 Potete ben vedere qui In realtà Sì Un 3-5-1-1 Con Bremer Scusate Bremer Danilo e Gatti La linea difensiva Locatelli Gioca più basso Rispetto al solito Gioca molto basso Infatti si è visto poco Kostic Un po' meno alto Del solito Con Miretti Che fa la mezzala sinistra Fagioli Che si pesta i piedi Con Weston McKennie E sulle Che proprio Gioca esterno Esterno Con Alec Milik Troppo sola Fagioli Non mi è piaciuto Contrere le monese Penso che sia stata La sua peggiore partita Con la maglia Della Juventus Ma perché appunto Era stato troppo Inculato a McKennie Cioè Molte volte erano proprio Vicini Perché Fagioli Giocava tre quartisti Ma proprio era Una mezzala destra No Anche McKennie Quindi questo è un gran problema Ragazzi È stato un gran problema Infatti sono stati sostituiti Entrambi Visto che non hanno fatto Una gran partita Hitmap Di giocatore Passiamo al sofascore Con Danilo Che come si vede qui Gioca anche un po' Tipo terzino Non è terzino Gioca ovviamente Provate anche magari A girare l'immagine Gioca ovviamente Difensore Vabbè Centrale Difensivo sinistro E poi sale anche un po' Diciamo così Poi c'è Bremer Che gioca Da centrale puro Anche se Va un po' a destra Un po' a sinistra E Gatti Centrale Proprio di destra Diciamo così Come potete ben vedere qui Proprio Quello è il suo ruolo Poi Filip Kostic Gioca molto sull'esterno Sale anche Scende anche un po' In difesa Ma Kostic Non credo ancora Sia pronto Per un ipotetico Ruolo da terzino Se lo vorrà veramente Far giocare terzino Perché Non è ottimo Secondo me Ancora A difendere Secondo me Mi manca ancora Quella Qualità per difendere Ha messo molti Cross dentro Ha corso molto Poi Weston McKennie Vedi Girovaga McKennie non ha mai E questa è una cosa Che ho notato A forza di fare Sti video Non ha mai Un ruolo Fisso ragazzi Girovaga Vedete un po' Fa la mezzata sinistra Un po' Sta diciamo Basso Un po' Sta sulla mezzata destra Un po' Sull'esterno Cioè McKennie non ha un ruolo base Girovaga Questo è un problema Questo è un problema Ragazzi Questo è un problema Locatelli gioca Invece molto basso Come si vede qui Dall'hitmap Presa appunto Da Non lo so Cioè Scusate Da Sofascore Poi Fagioli Gioca molto Sulla mezzata destra Un po' Avanti Ma un po' Poi Sule Gioca Esterno Come si vede ben qui E si accentra Per tirare col mancino E Miretti Gioca molto Sulla mezzata sinistra Un po' In avanti Ma poco Diciamo che Miretti Mi è piaciuto di più Con la Cremonesi Aspetto a altre barriere Perché è stato un po' Più dietro Ecco Poi Milik Anche qui Milik Non ha mai ruolo fisso Quando è da solo Milik Non ha mai ruolo fisso Anche lui Girovaga Ma principalmente Occupa la zona Di attacco E se non è Milik Quindi va a pensare Che deve avere un attaccante Cioè Milik Non può giocare da solo Infatti Quando notate Che Milik Ha un attaccante vicino Per esempio Con Il Benfica Quando è entrato Quando è È uscito Vlaovic E Ha giocato Ken Era un coppio insieme Con Il Bologna Era un coppio insieme Con Vlaovic Quindi comunque Milik ha bisogno su me Di un attaccante vicino Ken Vabbè Girovaga Ma era entrato Da mezz'ora Chiesa Si vede molto Che occupa La fascia esterna Ma Insomma Chiesa È pronto Già per fare il quinto Cioè io Chiesa La quinto La quinto Ce lo vedo Perché è bravo Sia a difendere Che ad attaccare Gliandro Paredi E se invece Girovaga Ma Chiaramente Quella zona Diciamo Di esterno D'attacco Solo perché Alla fine Voleva Portare il pallone Sulla bandierina E anche Edith Pampo Adria Che è lasciato Per ultimo Il giro Vagama Ha fatto una Gran partita Poi Toccati Chiesa 17 Questo è un dato Molto importante Perché Chiesa Con la Lazio Aveva toccato 41 palloni Ciò vuol dire Che si è andato Molto Indietro Cioè non si è andato Prende mai indietro La portiera Passare la palla Poi Danilo Ne tocca 91 Tanti come Le solite Danilo Trocca sempre Dai 90 in su Dremers 62 Gatti 67 Costi 66 Rabiot 46 Sono tanti Per un giocatore Che Comunque entra Ah no Rabiot sbagliate 15 Mannaggia Aspettate Ok Avevo soltanto Scritto male Il numero di Rabiot È solo Ripistinato Vabbè 15 McKennie 39 palloni Locatrice 64 Tocca di tanti Faggio di 34 Quindi ci sta Sulle 46 Che per un esterno Non è malaccio 1053 1038 Non è un gran numero Chiesa 26 Non è male per essere entrato Parega sventura Ok Quindi ci sono E non ho messo In perché era inutile Ovviamente Cioè ci tenevo a precisarlo Ha giocato 10 minuti Quindi ma stesso Poi momenti clou del match Una cosa che faccio sempre Forse questa è la parte Più difficile Se forse Serà più facile A livello di impegno Cioè Nel senso Lo spiego un attimo meglio Cioè nel senso Comunque A trovare Che ne so A scrivere test È più difficile Però Scattare Fare lo screenshot Proprio nel momento esatto È una cosa complicata Infatti A qualche volta Non ci riesco Guarda un'altra Valeri Sulle Sulle Sbaglia Infatti Se zoomiamo un po' Cioè Valeri Qui E prende tutto solo Cioè Sulle Sbaglia la palla Chiaro che Allora C'è da dire due cose Rivedendo L'azione più volte Chiaramente Sulle Può Aver Diciamo Non toccato la palla Per due motivi Il primo perché Commetteva fallo Cioè Se Sulle Magari Prendeva la palla E Valeri Stava attaccato E Valeri Le recuperava Faceva fallo Al limite Dell'aria E non è una cosa semplice Secondo c'era Shesney Questi sono Forse i due motivi Perché Sulle Non ha toccato la palla Ma su quello lì Un chiaro errore Di Sulle Che Non prende mai Il pallone Shesney Forse Poteva anche Non uscire Ecco O uscire dopo Poi Le due cose Con Sulle Che si accendono Il mancino Prima Con la gran parata I carne secchi Che vola E la seconda Ancora carne secchi Guarda Rientra Con il mancino Riesce bene A saltare l'uomo Ecco Tiro a giro Di milletti Con carne secchi Veramente immobile Parere alto Veramente di pochissimo Qui è stato difficile Per esempio Fare lo screenshot Ma la palla Veramente andata Alta di nulla Ecco Poi Tiro di gatti E forse questa È una grande occasione Guardate Tiro gatti Palla fuori di nulla Gatti da qui Se c'era un finalizzatore Più preciso Questo era probabilmente Gol Poi Qui C'è stata un'occasione Per la cremonese Un tiro rimpallato Da difensore la cremonese E c'è un grande Cuore di chiesa Perché qua Parete scalcia Il difensore Qua anche un po' Sfortunato Paredes Perché non credo Si aspettasse Il rimpallo Poi parte la cremonese Paredes Non corre Ecco Su Paredes Non corre Ho visto tanto Allora io credo Che Paredes Intanto Non abbia corso Perché non è Che Paredes È un velocista Poi credo Poi credo anche Forse per la voglia Secondo motivo Comunque farsi 40 metri Non è semplice Quanti sia Ma 40 50 30 Poi E poi anche Ho capito Perché magari Gli altri Correvano C'è chiesa Ragazzi Guardate C'è chiesa Era qui Era dietro Paredes E poi c'è chiesa E proprio Era uno degli ultimi uomini C'era Logatelli Che era l'ultimo E c'è stato bravissimo A non fare fallo Chiesa Che era sua Fena Quindi non poteva più Passarla Perché Fena prima Aveva fatto Un grande scatto E poi Gatti dietro Ma Paredes Doveva diciamo Provarci almeno Tiro cross di Fena Sul palo Pallore che però Non poteva mai entrare Ovviamente perché Era un tiro cross Forse Shesny Doveva essere posizionato Un attimo meglio Però C'è il tiro Che era comunque Sul palo Era totalmente impossibile Diciamo che Il portiere Prende Cioè Che il pallone Entrasse E poi la punizione Di Milik Grande gol Carnesecchi Mette la barriera a tre Forse L'unica occasione Doveva Carnesecchi Poteva fare qualcosa in più Perché Carnesecchi Durante Tutta la partita Ha parato Tutto ragazzi Tutto E un portiere Che già Con Tormia Aveva parato tutto Tranne sulla punizione Di Milik Barriera a tre Carnesecchi Cioè Non posizionato benissimo Ma Era un po' in ritardo Infatti Come potete Vedere anche qui Il palo Ecco E nulla ragazzi Questo era il tutto Spero che questa Diciamo Analisi Della partita Vi sia piaciuta Grazie a Dazon Grazie a Sovascore E grazie a Sockerman Per queste Diciamo Analisi Se ne volete Altre Ragazzi Fatemi sapere Chi diamo Definitivamente La parentesi Su Crevonese Ioventus Ciao Rega E grazie a Spermese E grazie a Spermese E grazie a Spermese Grazie a tutti.